Cos'è rimasto della fauna ittica presente nelle acque dei torrenti prima del 29 ottobre? Se lo sono chiesti subito, appena passata l'alluvione, i membri del direttivo del bacino di pesca numero 5 a Gordino. A un mese e mezzo dall'eccezionale evento meteo, abbiamo seguito lungo alcuni fiumi che scorrono sul territorio a Gordino il lavoro di esperti per monitorare la situazione e contare quanti pesci ce l'hanno fatta. Risultato, il 90% sono morti. Abbiamo fatto tutto il basso a Gordino, adesso siamo qui in Val Fiorentina, abbiamo fatto tre aree di campionamento, abbiamo fatto circa 150 metri per area e non abbiamo trovato purtroppo nessun pesce. Parte il Cordevole dove la superficie è abbastanza grande per cui l'acqua si è sfogata, su tutte le valli piccole dove ci sono stati incrementi di 2-3 metri anche rispetto a livello normale, nessun pesce è riuscito a sopravvivere. Drammatica la situazione rilevata nelle acque del Pettorina, a sopravvivere solo una rana. Praticamente rispetta quello che è il nostro pensiero, allora tutto il primo tratto dove non ci sono protezioni o così praticamente abbiamo visto una trottina che è andata via e basta, quindi di 100 metri praticamente un pesce. Calcolate che i campionamenti che facciamo qui di solito su un tratto così, più o meno un centinaio di pesci vengono su. Tutta la valle che viene giù da Rocca Pietro è pulita, non c'è dentro un pesce. Facciamo una conta dei danni, presenteremo in Regione insieme alla Federazione dei Baccini di Pesca a provincia di Belluno un sunto dei danni che ci sono stati, il nostro bacino è quello che è stato colpito da più da questi danni insieme a alcuni bacini del Cadore e come altri danni ha subito grandissimi il Lago del Corlo e il Lago di Alleghe purtroppo non si può campionare perché la quantità di acqua non ce lo consente sicuramente. Abbiamo dentro tanti anche vegetali purtroppo che quindi quando ci sarà caldo in agosto fermenteranno e anche questo causerà purtroppo la morte per mancanza di ossigeno dei pesci.